Eccolo qua, Jarvan IV ragazzi Jarvan IV finché non arrivi in Challenger Allora, banno Milio Perché ci potrebbe dare fastidio Che non deve esistere, Milio, mannaggia Invece esiste purtroppo, schifoso Milio Portatore della notte Portiamo stanotte Era turchese? No, bellissimo Come ho ottenuto questa skin? L'ho comprata Oh ragazzi, 10 euro L'ho comprata con i miei soldi La vera domanda è Se hai usato il codice, perché c***o non la croma Dove l'hanno messa? Mi hanno scampato la croma Ma porca paletta Ma Ma è un scam Ho preso il codice scam Ma comunque Posso, guarda, sembra sempre un piccione Jarvan Quando corre, guarda, guarda la testa Non fa ridere Mi sembra sempre un piccione Questa è una cosa che non hanno mai scampato di Jarvan Eh sì, tipo Ha un po' di scoliosità gamer Jarvan Niente leash per me Ma posso farne a meno Non c'è problema Sì, mi riguardo La prima cosa è la passiva di Karin Che sto si attiva Se riesce a levargliela Tanto meglio Se non riesce a levargliela Boh Comunque Jax fa il 4 La voglio staccato Dobbiamo per forza levare qua Porca paletta La tristana è la pazza Nice, nice Vabbè, non gridiamo per la scatola Dai Mannaggia, era veramente close Era 1k o moriva, ragazzi? La bandiera allungata Gloria Bro, ma stai scherzando? Ma che cosa mi pinghi? Era un minion Non ho ancora preso lo sweeper Ricordate di prendere lo sweeper quando ero collo? Devo fare attenzione Perché Karin comunque Il livello 7 è un po' pericolo set Quando ti ganka Vabbè Facile È perché è diventato molto forte L'avrei detto Alla fine Ivern aveva una feature del c***o Che era condividere i buff con gli altri Gli erano levata L'avrei detto Ok, abbiamo levato questa cosa Cosa facciamo? Ibuffiamo tutti le spell a Ivern Cosa succede? Ivern broken Cioè, ma va a fare ne una di spell Gli erano levato una c***a Gli erano levato Non è che gli erano levato la sua cosa più importante Il flash di Jaxo ce l'ha schifo Non ho capito perché abbiamo permesso di fare sta roba qua Vediamo i recall No, vabbè Stupenda E basta proprio la pena 10 ero ben speso Mio multi alico Non ho capito Grazie a tutti. Gridato, fuck. Non ci voleva questa. Chi l'ha presa? Chi è il Tristano? Deve essere peggio. Non credo. È un po' che nessuno sia buono, qualcuno sia buono. Non lo so. Posso avere un Prime Sub? La creatura. Tantino. Vabbè. Teammates. Ma potreste anche spostarvi, ragazzi. Che dite? Ahia. Che male sono. Oh, finalmente facciamo qualcosa insieme anche noi. Tabi, frozen art. Actually frozen art. Boh, c'è gara in C3 Stana. Non so, forse potevo restare e piazzare l'Herald. No, vabbè. Sono patetico. Potevo ammazzare senza morire sei volte. Potevo ammazzare senza morire. Potevamo giocare un po' meglio sto fight. Peccato. Abbiamo ammazzato la pari MS, un po' mi spiace. Vabbè. Andiamo a scena out, va. Scusate, ma non ho rimesso la web alla fine. Un po' mi spiace. E' anche troppo facile con Jarvar Ragazzi E' anche troppo facile con un champion in meta Sberla Nooo GG 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 Soldi ben spesi ragazzi Soldi ben spesi Soldi ben spesi Soldi ben spesi Doni on board Ma download Soli ecco Grazie per la visione!